Voltiamo pagina, Citroen ha lanciato la sua campagna pubblicitaria con un bravo papà che porta il figlio a scuola ma si dimentica la tazzina di caffè sul tetto della vettura. Inutile dire che quella tazzina di caffè ne ha passate di tutti i colori, vediamo. La tua vita è già abbastanza frenetica. Nuova Citroen C4 Cactus con sospensioni Progressive Hydraulic Cushions by Citroen.